L'ISIS ha annunciato di aver ucciso un crociato italiano nei combattimenti a Baguz, l'ultima roccaforte degli estremisti nella parte orientale della Siria. Su Telegram, l'ISIS ha pubblicato la tessera sanitaria e la carta di credito di Lorenzo Orsetti, 33 anni, fiorentino, nome di battaglia, Tekosher. Il volontario italiano si trovava da un anno e mezzo nel nord-est del paese, dove combatteva al fianco delle unità kurde di protezione del popolo contro i jihadisti. Nel messaggio diffuso su Telegram, l'ISIS sostiene che il crociato italiano è stato assassinato negli scontri nella località di Baguz. L'ISIS ha diffuso anche una foto del cadavere senza vita di quello che viene descritto come il crociato italiano Lorenzo Orsetti. L'immagine, pubblicata sui social network, mostra il viso e parte del busto della vittima a terra. Accanto al volto appaiono le punte di due scarponi militari, probabilmente indossati dai miliziani dell'ISIS, autori dell'immagine. Intanto le forze kurdo-siriane con cui combatteva in Siria Lorenzo Orsetti hanno diffuso la lettera a testamento dell'italiano. La lettera, una consuetudine per tutti i miliziani, si apre con la frase «Ciao, se state leggendo questo messaggio significa che non sono più in questo mondo. Nonostante questa prematura di partita alla mia vita, scriveva Orsetti, resta comunque un successo e sono quasi certo che me ne sono andato con il sorriso sulle labbra. Non avrei potuto chiedere di meglio». Grazie. Grazie.